salve a tutti ragazzi e oggi facciamo un video su il navigatore per audi a3 allora facciamo una premessa io ci tengo a fare questo video perché molte persone pensano che diciamo questi navigatori che alla fine roba cinese non valgono quello che diciamo il prezzo a cui vengono venduti quindi non ne vale la pena perché una cinesata e robe varie anch'io ero di quest'idea fin quando non ho visto con i miei occhi questo navigatore e mi sono convinto senza perdere altro tempo siamo su audi a3 versione diciamo la penultima quella praticamente del 2011 la 8 p se non sbaglio e vi faccio vedere questa audi praticamente montava in origine i comandi al volante come potete vedere con il volume il cambio direttamente della musica al volante la possibilità di cambiare il diciamo la modalità e la possibilità di chiamare montava in origine questo audi concert la terza versione cioè quella che praticamente legge mp3 non ha uno schermo diciamo grande semplicemente era uno schermo per visualizzare i titoli delle mp3 e così via diciamo una cosa standard no allora quindi ho comprato su ebay questo navigatore di dynavin come potete vedere questo navigatore si integra perfettamente all'interno della plancia del diciamo del vecchio dain del vecchio audi concert 3 infatti potete vedere la dimensione praticamente è identica e ha ripreso esattamente la stessa forma in modo che non bisogna fare alcun tipo di modifica nella diciamo nella plancia del della dell'auto e per questo motivo è semplicissimo da montare anche perché insieme diciamo alla confezione del navigatore stesso ci sono tutta la diciamo tutti i cavi necessario necessari per un'installazione rapida e semplicissima ovviamente questo stereo era possibile diciamo era impostato in modo che potesse funzionare sia su questa versione di audi che è quella un po più recente sia sulle audi precedenti questo è il campus che si poteva utilizzare con le vecchie audi voi mi direte sì ma le vecchie audi non tutte hanno l'entrata due din cioè nel senso la grandezza diciamo necessaria per far entrare questo navigatore ma hanno quella singola e io vi rispondo che sono disponibili su ebay a 60 euro più o meno naturalmente però sono da installare tramite un elettrauto delle diciamo delle plange degli adattatori che vi permettono di modificare quella singolo il singolo din per farlo diventare due din sostituendo anche questo pezzo di sotto dell'area condizionata praticamente sinceramente non direi mai che è una cinesata lasciate stare lo schermo che è un po sporco ma semplicemente perché non ho avuto tempo di pulirlo come si deve come potete vedere sembra realmente originale c'è uno sembra veramente di fabbrica questo 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 navigatore vediamo come funziona semplicemente girando il quadro possiamo vedere che parte automaticamente con lo stemma dell'audi è perfettamente funzionante come potete sentire siamo già collegati alla radio abbassiamo un attimo il volume e vediamo un po di impostazioni naturalmente stiamo parlando di uno schermo total touch screen c'è praticamente possiamo cliccare in qualsiasi parte dello schermo un attimo fatemi togliere il suono dell'audio dell'auto ecco fatto ragazzi quindi siamo nel menu principale allora ci sono diverse funzioni come potete vedere la cosa che è molto interessante rispetto a quelli che trovate su ebay io sono andato a ricercarmi praticamente una versione con un software aggiornato che sia molto gradevole anche da vedere perché quelli su ebay sembrano proprio vere e proprie cinesate cioè con questi tasti che sembrano risalenti al windows 95 cioè queste cose molto vecchi invece questo anche graficamente è molto interessante da vedere allora ci sono diverse funzionalità iniziamo con quella di base che è praticamente la radio la radio si accenderà e partirà ogni volta che ne gireremo il quadro e infatti come potete vedere diciamo siamo all'interno della radio la radio è rds cioè nel senso riesce a captare e a darvi il nome della stazione a cui siamo collegati si possono salvare fino a 30 stazioni molto semplice e intuitivo naturalmente funzionante al cento per cento e possiamo switchare da una radio all'altra senza alcun tipo di problema queste sono alcune che ho alcune radio che ho impostato io personalmente però vediamo un'altra cosa se vedete se in questo video vi può sembrare lo schermo diciamo troppo chiaro poco visibile io vi assicuro che dal vivo non è così però dal video può essere che vi dà questa impressione basta cliccare fare dei click sul sul comando del volume e si apriranno diverse funzioni tra cui quelle a parte di regolare il suono avanti e dietro nella macchina i bassi diciamo gli alti dell'audio praticamente possiamo anche impostare la luminosità dello schermo e il contrasto quindi qua basta vediamo basta cliccare su uno qualsiasi cliccare volume bassi gli alti il bilanciamento ed ecco qua brightness c'è la luminosità basta praticamente aumentare diminuire per arrivare alla diciamo la alla modalità che più ci interessa c'è nel senso come meglio preferiamo all'interno della nostra diciamo della nostra audi quindi clicchiamo di più possiamo modificare anche il colore e così via quindi molto molto editabile molto funzionale quindi questa ragazzi come potete vedere è la diciamo è direttamente la radio la radio la funzione base di questi navigatori come potete vedere qui possiamo alzare il volume con quest'altro quest'altra rotella possiamo cambiare radio e la cosa molto molto importante per cui parlavo di questa diciamo del cavo del campus che è abbinato a questo stereo e che i comandi sono praticamente utilizzabili anche dal volante senza perdere quelli di serie quindi come potete vedere adesso il volume è a un certo livello con alzando la rotella del volume qui il volume si alza e si abbassa a seconda di quello che preferiamo e ad esempio possiamo cambiare la stazione andando avanti vedete sta praticamente switchando avanti e dietro quindi davvero davvero una funzione comoda davvero un'ottima integrazione con i comandi al volante abbassiamo di nuovo il volume e andiamo avanti con le nuove funzioni le altre funzioni che sono sicuramente quelle per cui vi siete collegati allora andiamo indietro con la freccettina tramite touch oltre alla radio abbiamo ad esempio la tv la tv è importantissima clicchiamoci su e vediamo come funziona qui il menu diciamo un po più diciamo più un telecomandino dove possiamo digitare tutti i diciamo i canali a cui il nostro digitale terrestre si è collegato e vi anticipo ragazzi che per avere questo tipo di questa tv all'interno del navigatore sono tutti degli optional che io ho preso in più ma che vendo insieme praticamente una piccola scatoletta che vi permette di agganciare il segnale digitale terrestre fino a una certa velocità anche in movimento questo poi è una modifica che soltanto un elettrauto può fare anche se ci sono praticamente direttamente nella cavettistica un cavo che basta collegare con un determinato filo che l'elettrauto sa quale sinceramente a meno che non siate pratici diciamo in questo vi permette di far vedere la televisione o un video tramite usb qualsiasi cosa che poi andremo a vedere più avanti anche tramite anche se la macchina è in moto cosa che per la sicurezza audi disabilita quindi è una cosa abbastanza interessante soprattutto se bisogna affrontare un viaggio lungo poter far vedere un film a chi ci accompagna in questo viaggio con la macchina e può essere comodo come potete vedere la qualità è ottima l'audio altrettanto naturalmente per impostare i canali c'è bisogno di una ricerca basta cliccare qui e fare clic su scan oppure se vogliamo entrare nel menu basta fare clic sul menu come potete vedere abbiamo qui tutte diciamo tutte le impostazioni che poi naturalmente sono sempre da da editare quindi ragazzi la versione diciamo la tv è fatta in questo modo naturalmente vi anticipo già che la qualità la ricezione del segnale non è eccellente sinceramente anche perché io sono di un paesino un piccolo paesino della provincia di foggia dove il segnale più diciamo copre meglio la zona sono le grosse città ad esempio roma milano le foggia bari le grosse città e qui c'è la possibilità di fare uno scan io qui praticamente al sottoterra un livello meno uno dalla strada riesco a prendere soltanto pochissimi canali tra cui questo rai rai 5 e pochi altri però andiamo avanti ragazzi questa è la funzione tv per cambiare basta per andare nel menu principale basta cliccare su band che vi sposta su un'altra modalità che in questo caso ritorna la radio andiamo avanti e vediamo ipod allora l'ipod è molto semplice da impostare semplicemente bisogna avere all'interno del cassetto il vostro installatore di fiducia voi stessi potete far passare dei fili che escono da dietro allo stereo e li fate uscire da questo cassetto questi due cavi uno è un cavo di entrata usb e l'altro e l'altro invece è aspettate un attimo vediamo se riesco e l'altro invece è questo cavo che si può collegare a qualsiasi tipo di ipod iphone di quelli praticamente con la vecchia con i vecchi plug con i vecchi plug cioè nel senso quelli 3gs iphone 4 iphone 4s il 5 invece ha bisogno di un adattatore nuovo che basterà inserire scusate che con una mano diventa tutto più difficile ecco qui una volta inserito automaticamente il nostro navigatore si imposterà nella versione ipod infatti se andiamo indietro e clicchiamo ipod come potete vedere si illumina qui viene presa praticamente il segnale ve lo dice direttamente dall'ipod e possiamo utilizzare la musica direttamente dallo schermo del nostro navigatore non per forza l'inter dal nostro ipod quindi semplicemente la cosa più semplice che viene da fare prenderlo inserirlo nel cassetto con delicatezza e chiudere quindi come potete vedere direttamente dalle impostazioni di questo menu possiamo andare indietro andare su musica selezionare ad esempio songs le canzoni e in questo modo possiamo andare giù e tipo oi maria parte la musica partono gli articolo 31 quindi è davvero comodissimo naturalmente tutto questo è sempre editabile con i comandi al volante tramite campus e funziona perfettamente ragazzi andiamo indietro non perdiamo altro tempo anche perché i minuti passano oltre a ipod abbiamo l'usb che è diciamo la funzione regina del diciamo di questo navigatore perché perché se noi prendiamo questo cavetto che è uno degli altri due cavi che esce dal diciamo dal retro della nostra della nostra radio della nostra navigatore abbiamo questa entrata usb allora prendiamo a questo punto la penna usb che avevo preparato appositamente per questo video è una penna da 16 giga questo navigatore riesce a leggere fino a usb se non sbaglio da 32 gigabyte quasi riuscito una volta inserito automaticamente partirà il menu del dell'usb sul diciamo sul nostro stereo quindi come funziona il menu dell'usb abbiamo tre funzioni musica immagini e video io ho praticamente preparato tutte e tre per farvi vedere come funzionano tutti con qui schiacciando questo tasto si va indietro nel menu e possiamo vedere le cartelle all'interno del diciamo di questa penna usb in questo caso siamo in musica io ho impostato due due canzoni su questa penna usb un ballo di gruppo basta cliccarci su automaticamente dopo essere partito l'audio partono tutti i dettagli sullo schermo è un ballo di gruppo divertente a mi mi gusta sì e andiamo indietro e bob marley come potete vedere parte tutto funziona perfettamente l'audio è completamente integrato e andiamo avanti questi sono gli mp3 naturalmente ne potete caricare anche migliaia avete capito bene che l'usb diciamo la comunità è proprio questa inoltre possiamo caricare delle fotografie se clicchiamo su io qui ho caricato tre fotografie non mi ricordo sinceramente neanche quali e basta cliccarci su e automaticamente partono diciamo in anteprima queste foto con questo tasto possiamo andare avanti o indietro vediamo se ce ne sono di altre ecco tipo foto vabbè io ho messo foto a caso questo è mio fratello questo è uno sfondo qui se clicchiamo su possiamo praticamente switchare tra una foto e l'altra eccetera quindi ragazzi usciamo ritorniamo in questo menu e adesso vi faccio vedere la funzione che per me la più importante cioè i video ho caricato soltanto un film qui all'interno di questa penna usb ed è tro in altamurano che chi che consiglio di vedere perché davvero uno spasso vi faccio vedere una volta cliccato l'unica cosa è che impiega un po di tempo per caricarlo come potete vedere io adesso il video non lo sto però non lo taglierò assolutamente per farvi vedere che per caricare un film che comunque quasi un giga di memoria su una penna da 16 giga ci mette una decina 10 15 secondi quindi c'è solo da pazientare un attimo però una volta fatto il film parte la qualità video è eccezionale perché comunque stiamo parlando sempre di uno schermo 800 x 600 800 x 480 non ricordo bene però la definizione dello schermo è eccezionale se clicchiamo su abbiamo tutti i comandi basterà tenere premuto questo per andare avanti con una velocità doppia tenerlo premuto di nuovo a velocità quadrupla e così via diamo su ok e come potete vedere il video perfettamente funzionante e naturalmente possiamo sempre regolare il volume i bassi gli alti il bilanciamento avanti dietro il fad o la luminosità come potete vedere a seconda di quello che preferiamo in questo caso mettiamo 30 il contrasto lo alziamo un po di più a 30 e possiamo anche regolare i colori come potete vedere aumenta o diminuisce la vividezza dell'immagine quindi è davvero uno schermo completo possiamo uscire fuori dal da questo menu e andare avanti allora andiamo su band togliamo la nostra penna usb abbassiamo il volume andiamo indietro abbiamo anche la possibilità di montare una videocamera per la retromarcia naturalmente tutto impostabile tramite i cavi che sono già di serie all'interno del del navigatore che avremo tutti dietro naturalmente la scocca e automaticamente se abbiamo una videocamera montata semplicemente cliccando su qui ho sbagliato chiedo scusa cliccare aux cliccando direttamente sulla sull'immaginetta della videocamera possiamo vedere quello che succede in diretta dietro cioè oppure parte automaticamente diciamo andando sulla r di retromarcia della macchina potete impostarlo automaticamente che parte la videocamera dietro è davvero una cosa comodissima io sinceramente non ce l'ho perché non ho avuto proprio modo di diciamo il tempo di trovarla successivamente proprio perché non era compresa all'interno del del pacco cosa abbiamo qui aux naturalmente se abbiamo un cavo aux d'entrata la cosa semplice è una cosa semplicissima non ve la faccio nemmeno vedere sd nel caso abbiamo delle sd inserite vedete qui dentro abbiamo un ingresso per le sd c'è le schiedine quelle praticamente possono essere comode mettete qui dentro la gestite direttamente da questo menu naturalmente però stiamo parlando di un sd abbastanza scomoda rispetto alla semplice usb che è molto più rapida veloce anche per l'inserimento per rimuovere dei dati qui abbiamo il lettore dvd che naturalmente è all'interno qui vi è inserito il dvd e parte automaticamente il menu dei dvd però io sinceramente ragazzi dopo che avete a disposizione delle usb non penso che si usano ancora i dvd c'è fate dei dvd al computer l'inserite cioè mi sembra una cosa abbastanza inverosimile io non l'ho mai utilizzato sinceramente andando indietro abbiamo il bluetooth che l'ultima funzione che vedremo più avanti è il gps molto importante il navigatore allora ragazzi il navigatore funziona in questo modo e si precarica all'interno di questa sd un navigatore che io vi darò naturalmente diciamo di serie quello il migliore per questo navigatore è l'i go e come potete vedere basta cliccarci su parte ai go e nel giro di 30 secondi siamo all'interno del nostro navigatore che funziona perfettamente ragazzi ve lo assicuro mi ha tirato fuori da situazioni molto difficili strade impervie per montagna e quindi funziona tutto perfettamente così come funzionano sui nostri smartphone sui nostri android però naturalmente un conto è aver attivato il nostro iphone durante la marcia e quindi significa batteria che si scarica in continuazione un conto e averlo direttamente attaccato alla batteria della macchina che è una comodità assurda quindi funziona in questo modo mostra mappa come potete vedere già ha preso il satellite e per vedere diciamo per andare in un posto basta andare su trova io qui ho delle diciamo dei indirizzi preimpostati diciamo già naturalmente tutto in italiano il software questo è casa della mia ragazza a Bari cliccando su su clic automaticamente ti fa vedere sulla mappa il punto d'arrivo noi andiamo su avanti e nuovo percorso sì perché adesso è già preimpostato di serie un altro come potete vedere ti carica il percorso e tutto funziona perfettamente come potete vedere ti fa già il calcolo io adesso sono a Stornarella provincia di Foggia andiamo su vai ti dice quali sono i consumi mediche per cui per arrivare fino a quel punto quanto è il costo dell'autostrada eventuale se bisogna prendere così via come potete vedere ragazzi nonostante sono un livello sotto la strada funziona funziona tutto alla perfezione per farvi vedere anche una questione di satelliti vediamo un po' se riesco no non ricordo bene andandone forse nei menu altro aggiornamenti monitor di viaggio poi naturalmente ragazzi questo dovete spulciarvelo un attimo voi vediamo informazioni sul paese no non ricordo bene vi volevo semplicemente far vedere quanto è potente il segnale del nostro navigatore ad esempio uscendo fuori facendo uscita andiamo nel menu prima di entrare all'interno regolazioni che è questo praticamente per impostare tutto e vediamo monitor vediamo se è questo qui ecco infatti qui potete vedere nonostante sono un livello sotto la strada i satelliti che prendono sono praticamente sei sono quelli evidenziati in blu e ci sono altri quattro che prendono e non prendono e non prendono quindi la il diciamo il segnale è eccellente davvero eccellente inoltre ragazzi cos'altro dirvi per il montaggio del diciamo oltre al navigatore naturalmente voi mi direte sì ma io devo montare il gps devo montare il devo fare il buco per fare entrare i due fili qui la la videocamera eventualmente se la compro non è un lavoro che potete fare voi e invece io vi dico ragazzi che è un lavoro che potete fare assolutamente anche voi perché vi ho detto è semplicemente questione di estrarre quello vecchio che avevate e inserire e dopo naturalmente aver collegato tutti i cavetti non bisogna tagliare nessun filo non bisogna fare niente semplicemente inserire questi questi plug che già sono presenti dietro al navigatore e inserire questi altri alla i cavi che vengono da dietro la macchina quindi non c'è nient'altro da fare per il navigatore l'unica cosa che se non lo volete non se non volete fare un lavoro voi diciamo sporco cioè nel senso prendere perché il navigatore ha bisogno di una di una sorta di scatoletta di queste dimensioni per non tenerla in vista da qualche parte che esce fuori da qui certo un lavoro eccellente lo può fare soltanto un elettrauto che con 20 30 40 euro voglio esagerare vi fa tutta l'impostazione come si deve ad esempio nel mio caso il la scatoletta per il gps è stata inserita direttamente qui all'interno del piantone della macchina in modo che non sia visibile nulla bene ragazzi adesso usciamo dal navigatore spero di essere stato completo in tutto quello che volevo dire in questo caso andiamo qui andiamo indietro adesso la funzione fondamentale è quella del bluetooth per me utilissimo come potete vedere abbiamo già la b del bluetooth attiva cioè è blu perché è collegata direttamente con l'iphone 5s da cui sto riprendendo questo video adesso però per farvi vedere come il funzionamento stacco questo video e riparto con un'altra un altro telefonino a riprendere in modo che vi faccio vedere come funziona eccoci ragazzi scurita del video ma sto riprendendo da un nokia da quattro soldi però alla fine è quello che interessa e la funzionalità allora come vi dicevo questo è il mio iphone 5s come potete vedere già collegato qui abbiamo un messaggio in arrivo naturalmente se qualcuno di voi si chiede che cos'è questo anello sul mio iphone 5s è gelbreccato e ci ha messo un tweak che riprende praticamente jelly bean di android mettiamo la password con il touch screen ecco ragazzi allora come funziona il il bluetooth è impostabile o cliccando direttamente qui sul telefono oppure se siamo all'interno della radio cliccare sul sulla b di bluetooth oppure la funzione per me più comoda è quella che nel caso qualcuno chiami questo telefono automaticamente si toglie la funzione radio ed entra nella funzione bluetooth la funzione bluetooth è così è molto semplice intuitiva e come potete vedere sono anche belli da vedere questi tasti a differenza di altri diciamo di altri navigatori cinesi sono diciamo una versione più più bella visivamente come potete leggere qui sotto connect cioè è connesso al dispositivo e per fare la prima connessione davvero semplicissimo basterà cliccare queste due freccette impostare sul sul proprio sul proprio iphone bluetooth e uscirà car kit basterà cliccare su car kit e sarà connesso quindi niente di più semplice la cosa comoda è che quando parte una chiamata come potete vedere io se faccio partire una chiamata sul tastierino numerico chiamiamo il 139 in questo caso scusate ma questo telefono è una chiave che veramente a mettere a fuoco come potete vedere in questo caso alziamo il volume adesso stiamo praticamente ascoltando quello che funziona e quello che sta funzionando nel diciamo nel nostro telefono direttamente dall'auto e possiamo naturalmente rispondere e parlare tranquillamente proprio perché qui vedete questo forellino non è nient'altro che il microfono del navigatore quindi ragazzi funziona tutto molto molto bene infatti se io posso chiudere la chiamata direttamente dal diciamo dal dal navigatore come potete vedere se metto il telefonino qui posso anche inoltrare una chiamata dal navigatore cioè faccio il numero di telefono 139 e do l'ok come potete vedere out call automaticamente partirà anche sul mio iphone e la cosa comodissima è che dall'iphone posso decidere se nel caso non voglio più parlare in viva voce posso semplicemente cliccare qui su sorgenti audio scusate che non ci arrivo sorgenti audio e posso selezionare se voglio posso impostare se parlare direttamente dal car kit dall'iphone stesso e quindi si azzera automaticamente il volume e lo sentirò soltanto nell'iphone oppure se dal via voce del telefono quindi ragazzi è davvero una funzione molto importante il bluetooth funziona egregiamente ma la ciliegina sulla torta quale è che chiudiamo la chiamata in entrata e che succede diciamo la cosa particolare che oltre alla chiamata semplice di entrata e di uscita tramite navigatore la cosa interessantissima è che noi possiamo utilizzare lo streaming audio dal nostro cellulare navigatore quindi questa è una funzione aggiuntiva del nostro navigatore funziona in questo modo basterà una volta che è tutto collegato come potete vedere a me collegato qui e qui funziona ancora collegato in blu basterà cliccare su musica sto per fare un esempio ecco possiamo anche evitare e ascoltare la nostra musica cliccando direttamente dall'iphone mettiamolo qui appoggiamolo come potete sentire l'audio non perde minimamente di qualità ed è veramente veramente una cosa comoda la cosa ancora più comoda ragazzi che naturalmente diciamo oltre a essere comandato dal nostro iphone che può essere una cosa scomoda soprattutto mentre si guida una volta fatto partire l'audio dal nostro iphone dal nostro android qualsiasi telefono sia possiamo governarlo anche direttamente dal scusate abbassiamo il volume possiamo governarlo anche direttamente dal diciamo dal navigatore stesso se io voglio cambiare musica semplicemente cliccherò qui e cambia come potete vedere la canzone vi è chiaro quindi una cosa comodissima davvero comodissima e naturalmente non voglio che voi pensiate che soltanto una questione di legata solo al navigatore ma è la cosa comodissima che legata soprattutto anche i comandi ai comandi al volante quindi ragazzi se noi vogliamo andare avanti con la musica vi faccio sentire basterà fare un click in su o in basso in questo modo e potete vedere che ha cambiato automaticamente oppure per farvi vedere ancora meglio come funziona con il nostro iphone qui ci sono sempre i modà non sono amante dei modà però mi è stato regalato un album su itunes quindi se vado in basso siamo con con i modà se vado in basso dimmelo Justin Timberlake gli ACDC e funziona quindi ragazzi tutto in questo modo quindi è davvero comodissimo oltre alla musica potete far partire qualsiasi altro applicazione voi abbiate per la musica o ancora più comodo e youtube cioè se noi abbiamo praticamente un video di youtube che vogliamo vogliamo vedere assolutamente possiamo fare in questo modo allora scusatemi tipo vediamo andrea cervone di hdblog sì dai facciamo vediamo questo video questo è un video vecchio mio del canale oltre lo possiamo vedere tranquillamente dal nostro cellulare ma la cosa importante è che l'audio è diciamo in streaming in tutta la macchina quindi tramite il sistema come potete vedere quindi ragazzi è davvero davvero una cosa comoda noi possiamo utilizzare l'audio dei nostri dispositivi tramite bluetooth tramite il nostro navigatore che in macchina è il massimo ragazzi spero di esservi stato utile questo navigatore quindi è in vendita ma non per qualche motivo semplicemente perché sto per vendere la macchina quindi ritornerà qui il navigatore navigatore di serie e semplicemente questo lo vendo per monetizzare francamente e quindi niente ragazzi contattatemi per qualsiasi problema qualsiasi dubbio contattatemi non vi fate assolutamente problemi e niente buon acquisto grazie a tutti Grazie a tutti.